Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con 15 minuti con la trasmissione di approfondimento di Fritibu. Oggi ci occuperemo di randeggismo di animali e lo faremo in compagnia di Michele Dagati, delegato della città di Vittoria per quanto riguarda l'AIDA, ovvero l'Associazione Iblea dei Diritti degli Animali. Intanto buonasera Michele. Buonasera. Allora Michele intanto iniziamo un po', parliamo dell'AIDA, di questa associazione e da quanto tempo c'è qui in provincia. L'AIDA, l'Associazione Iblea per i Diritti degli Animali, è un'associazione proprio provinciale con coordinamento proprio provinciale, nel senso che si occupa solo della provincia di Ragusa, quindi di tutti i diritti degli animali in provincia di Ragusa. È un'associazione che è nata principalmente per la tutela e del randeggismo, che è uno dei problemi delle piaghe purtroppo nella nostra provincia. È un'associazione che si occupa e ci occupiamo attualmente della tutela e della gestione dei cani che ci sono, dei cani che comunque sono gestiti in provincia di Ragusa, dei cani comunali che si stanno per completare, in parte comunque sono già ultimati e quindi ci sono già dei cani all'interno di queste strutture e l'AIDA si occupa proprio della gestione di questi cani. Da quanto tempo ci siete? È un'associazione che esiste da circa un anno, è una tra virgolette una branca della LAV, quindi siamo tutti i componenti associati alla LAV, che è un'associazione a livello nazionale e noi nel ristretto perimetro presente nella provincia di Ragusa ci occupiamo con l'AIDA invece degli animali d'affezione. Ecco c'è un'importante novità che è stata inserita nel codice della strada di Regente, è stata l'occasione questa che era per parlarne, e un po' ecco gli animali vengono equiparati agli uomini in caso di incidenti, quindi non solo chi magari provoca e coinvolto nell'incidente è costretto a fermarsi ma anche chi si trova a passare lì per caso, se no può andare incontro a un reato amministrativo. Spieghiamo un po' ecco questa norma. Questo praticamente è il decreto attuativo dell'ottobre del 2012 del codice della strada, praticamente fa partire in sostanza quella che era la legge che era già nata nel 2010, il regolamento della variazione del codice della strada. Questo è un buon inizio perché in buona sostanza cambia il valore che si attribuisce a un animale, nel senso che prima non veniva considerato un essere vivente piuttosto che una cosa, quindi oggi obbligare un utente della strada a fermarsi in caso di incidente, sia che sia stato direttamente coinvolto o che sia semplicemente un passante, cioè colui che ha visto anche un incidente, questo dà un valore aggiunto all'animale. Il decreto attuativo 217 in buona sostanza sancisce l'obbligo di fermarsi e di mettere in pratica tutte quelle opere, tutte quelle situazioni che possono salvare l'animale. È una situazione un po' complessa dalle nostre parti perché il codice della strada dà per scontato che le amministrazioni comunali abbiano già dei servizi di soccorso, di ambulanze, di veterinari convenzionati o di un canile già convenzionato che possa curare e accogliere quindi il cane incidentato. Quindi dà per scontato ma in realtà nelle nostre parti non funziona così. Per cui c'è questa contrapposizione fra il codice della strada che ci obbliga come utenti della strada a soccorrere l'animale. Ma in realtà dalle nostre parti le amministrazioni comunali non hanno questo servizio. Per cui la prima cosa da fare in caso di incidente con un animale, che poi attenzione, si parla di animali sia da affezione sia animali da reddito o animali protetti. Quindi qualunque genere di animale che si possa trovare in mezzo a una strada. Non solo un cane ma un gatto, una pecora, una mucca. Qualunque animale si possa trovare dalle nostre parti giustamente attraversi una strada. Per cui a noi quindi ci obbliga il codice della strada a fermarci. La prima cosa da fare, quello che consigliamo noi, è chiamare la polizia municipale così come in un qualunque altro tipo di incidente. Nel caso in cui la polizia municipale non possa ottemperare agli obblighi sanciti dalla legge, intanto noi come comuni cittadini dobbiamo obbligatoriamente salvare l'animale. Anche perché tra l'altro si incorre in una sanzione amministrativa che arriva fino a 1500 euro, 1600 euro. Forse l'unica differenza, lo spieghiamo a nostri telespettatori con gli uomini, che invece nel caso delle persone, il reato non è solo amministrativo ma è anche penale. Forse questo è l'unica differenza, però poi il comportamento e l'atteggiamento della tenera è identico. Esattamente. Per cui nel caso in cui non ci sia un servizio espletato da parte dell'amministrazione comunale, dopo aver salvato con tutti i propri mezzi, quindi prendere il cane, magari caricarlo il cane piuttosto che un gatto, caricarlo in macchina, portarlo dal veterinario di fiducia, dopodiché se l'amministrazione comunale, visto che non ha attemperato al servizio, il cittadino può rivalersi per vie legali contro l'amministrazione come reato di omissione di atti d'ufficio. Perché in realtà è un reato di omissione di atti d'ufficio. E se ci sono dei costi da sostenere, se ne deve fare carico chi? Chi ha causato l'incidente? Certamente. Appunto, come sancisce il decreto attuativo, bisogna mettere in pratica tutte quelle opere, tutte quelle attività che possono salvare l'animale investito. E questo significa anche prendere un cane, un gatto, un animale qualunque, portarlo da un veterinario privato e quindi pagare anche la parcella del veterinario. Dopodiché si può eventualmente rivalere sull'amministrazione comunale per omissione di atti d'ufficio e cercare di farsi rimborsare. Quindi è questa la differenza. Perché le amministrazioni comunali in teoria avrebbero dovuto già espletare questi compiti dal 1991, da quando è stata emanata la legge 281, che obbligava tutti i comuni, quindi tutte le amministrazioni comunali, o li obbligava ad avere un servizio veterinario, un servizio di emergenza, un canile o una convenzione con canili privati. Cosa che in questi anni è stata presa un po' in maniera molto larga, cioè non è stata attenzionata in realmente questo problema. C'è da dire però una cosa, qui non si sta colpavolizzando le amministrazioni comunali per il mancato servizio, per il mancato interesse al problema, perché in realtà il problema negli ultimi anni l'hanno attenzionato e c'è un ancora di salvezza a questo nuovo decreto attuativo 217, che è il completamento dei tre rifugi sanitari, capofila della provincia. Ecco, parliamo un po' a che punto siamo invece dal punto di vista dei canili, perché Vittoria c'è però, magari siamo a metà dell'opera, a che punto siamo? Allora, le strutture, parlando del canile sanitario di Vittoria, la struttura in pratica è completa, si aspettano semplicemente l'autorizzazione sanitaria che verrà successivamente all'espletamento di alcuni altri piccoli dettagli. Comunque si pensa che nell'arco di due, tre, sei mesi al massimo il canile sanitario dovrebbe essere completato. Completato il canile sanitario ci saranno tutti quei servizi che saranno a disposizione dei cittadini e degli animali in particolar modo, perché ci sarà un'ambulanza, ci sarà un servizio di cattura, quindi nel caso di incidente di soccorso ci sarà un veterinario convenzionato, c'è un ambulatore all'interno del canile e quindi il servizio, il cerchio praticamente si completa. Gli altri due canili in provincia dove sono? Uno è a Modica e l'altro è a Ragusa. Loro credo siano un po' più avanti di noi per quanto è arrivato il canile di Vittoria nell'espletamento. Credo che il canile di Modica, se non vado errato, è già stato autorizzato e quindi mancano solamente la gara d'appalto per affidare il canile in sostanza di un'associazione di animalisti giustamente per la tutela degli animali. Ecco, magari spiegiamo un po' ai nostri telespettatori i costi di gestione, come funziona un canile, di cosa necessita, perché poco fa lei parlava anche di un'ambulanza, di un veterinario convenzionato, quindi spese, dei costi che... Esattamente, sono dei costi che giustamente sono a carico delle amministrazioni comunali perché la legge dice che il cane randaggio, il cane sprovvisto di microchip è un cane del comune, quindi del sindaco e l'amministrazione comunale per cui deve pagare le spese per il mantenimento e la cura degli animali che vengono ricoverati all'interno della struttura. Ci sono delle tabelle dettate dalla legge 281 a cui si fa riferimento e questo praticamente serve in sostanza a gestire dal punto di vista finanziario la gestione di un canile. Ecco, negli anni passati, lei diceva, c'è stata invece più scarsa attenzione, poca attenzione a questa problematica. In questi ultimi anni si sono fatti dei passi avanti. Esattamente. Perché, come mai questa inversione di tendenza, per fortuna? No, più che altro non è, io non credo che sia un'inversione di tendenza, il problema sostanziale è che le amministrazioni locali finalmente si sono resi conto che il randagismo è diventato un problema insormontabile, un problema grave, un problema grosso. Perché dal 1991, ripeto, da quando è stata emanata questa legge che tra le tante cose finalmente ha abrogato la soppressione dei cani all'interno dei canili, visto che i cani non venivano più soppresse all'interno dei canili, i canili si sono riempiti nel giro di pochissimo tempo. Le amministrazioni comunali non sono riuscite a capire praticamente qual era il senso di quella legge che è stata emanata nel 1991 e la legge del 281 è una legge quadro, quindi mette i paletti di riferimento che poi ogni regione prendeva e creava la propria legge. La regione Sicilia ha recepito la legge del 281 solamente nove anni dopo, per cui nel 2000, con la legge 15, proprio del 2000. In questi nove anni, dove i canili praticamente si sono riempiti e quindi non avevano più spazio per ricoverare nuovi randaggi, i randaggi si sono proliferati ad un punto tale da diventare veramente una situazione molto grave che poi si è finiti, come qualche anno fa con la morte del bambino Giuseppe Braffa Scicli, ucciso da un branco di cani e poi da lì praticamente le amministrazioni hanno capito che il problema era veramente grave e andava attenzionato e ora si sta correndo ai ripari. Qual è l'iter, se si può dire, di un cane che magari viene trovato per strada, un cittadino decide di portarlo in un canile, quale è l'iter, poi il cane a cosa va incontro e poi soprattutto se poi viene rimesso nel territorio? Allora, ecco, la rimissione del territorio è un argomento molto contrastante anche fra di noi associazioni, perché in realtà molta gente è convinta che prendere un cane e salvarlo tra virgolette dalla strada e portarlo in canile sia semplicemente la soluzione più ideale per il cane. Il problema è che con la gran mole di randaggi che ci sono nel territorio non basterebbero, già non bastano i canili che ci sono oggi in Sicilia, ma non ne basterebbero neanche altri con mille posti a canile, perché si riempirebbero nel giro di pochissimi mesi. Per cui dalle nostre parti, quindi in Sicilia, si sta optando per la reemissione del territorio, perché in realtà molta gente è convinta che i cani per strada, i cani sul territorio, non i cani per strada perché altrimenti si pensa a un cane in pericolo di vita perché è investito da una macchina, ma i cani non sono tutti in pericolo, i cani non stanno male. Io sono per il cane libero, il cane in canile, io vivo la realtà del canile e so quello che vuol dire tenere segregato in un box di qualche metro quadrato un cane per tutta la vita e non è un, credetemi che non è un bel vivere. Per cui la reemissione del territorio diventa l'escamotage per cercare di dare un turnover a quello che è il canile. Quindi il cane viene preso, viene portato all'interno del recinto sanitario, verrà portato quando avremo i recinti sanitari autorizzati, verrà portato all'interno della struttura, verrà curato se è malato denutrito, verrà sterilizzato perché la sterilizzazione è una delle cose che ci aiuta e ci aiuterà per cercare di contenere le nascite dei cani randaggi e poi se è il caso si valuta anche la reemissione. Quindi se il cane viene da una situazione abbastanza ottimale, quindi che non è in pericolo di vita, non è in pericolo quindi di avverenamenti o piuttosto che di incidente stradale, il cane lì può stare tranquillamente. Verrà anche microcippato? Naturalmente viene microcippato, viene microcippato a nome del comune perché, ripeto, il proprietario del cane randaggio è il comune. Poi ci sono dei casi in cui ad esempio un cane magari viene adottato in questo tempo. Quelli che sono magari i più fortunati. Esattamente, i più fortunati. Bene, il nostro tempo a disposizione è terminato. Noi ringraziamo Michele Taghe per le importanti del lucidazione che ci ha dato. Lo ringraziamo delegato per la città di Vittorio e dell'Aida, l'associazione Iblea dei diritti degli animali. Bene, il nostro tempo è terminato. Grazie. Noi ringraziamo anche i nostri telespettatori. L'appuntamento è con una prossima puntata di 15 minuti corti. Buonasera.